Domani sera ci sarà un incontro con la partecipazione del candidato presidente del patto per l'Abruzzo Luciano D'Amico dove ci auguriamo di incontrare tanti concittadini e tante altre persone dei comuni della provincia di Teramo per continuare questo nostro momento di ascolto e di proposta sui temi che interesseranno fortemente questa campagna elettorale dalla sanità ai trasporti all'agricoltura al turismo al lavoro in primis alle tematiche che riguardano l'occupazione e la stabilità ci aspettiamo tante persone con le quali vogliamo avere sia un momento formale di presentazione ma anche un momento informale con un rinfresco dove magari le persone si sentono più a proprio agio e ti manifestano le loro esigenze, ti comunicano le loro problematiche perché parliamo di un momento di ascolto e di tante cose che non vanno e della nostra proposta di cambiarne altrettante abbiamo avviato questo momento con una modalità non voglio dire classica ma penso efficace e concreta è l'incontro con i cittadini al mercato per invitarli all'iniziativa di Castelnuovo Mano di ieri sera ne è stato uno, ne seguiranno altri perché penso anche che l'ascolto diretto con le persone è necessario è necessario non solo in campagna elettorale, io come si diceva l'ho fatto da sempre, è una pratica che ho sempre usato perché poi ti rendi conto che effettivamente da quelle necessità e da quelle analisi che tu fai direttamente sul campo vengono fuori le soluzioni o le possibili soluzioni alle esigenze, alle cose che servono ai cittadini Intanto è stata la prima regione a Guida Marsiglio che ha dato la formale adesione a quel progetto di legge che a nostro modo sarà una sciagura, ovviamente non solo per l'Abruzzo ma per tutte le regioni del centro-sud già la parola stessa differenziata significa che si introducono delle differenze e queste differenze non porteranno cose buone per la nostra regione Basta pensare che già 4 miliardi di euro dalle regioni del centro-sud come mobilità passiva cioè come persone che si vanno a curare fuori regione vanno verso le tre regioni del nord che sono l'Emilia Romagna, la Lombardia in primis e il Veneto Questo gap, questa distanza con questa sciagurata proposta del Governo nazionale di centro-destra alla quale, ripeto, ha dato adesione l'Abruzzo già da tempo è qualcosa che bisogna rivedere Io credo che noi dobbiamo, invitando le persone a votare, porre l'attenzione su questo perché chi vota centro-destra deve sapere che avrà meno soldi per sanità, lavoro, trasporti e tanti altri servizi che fa la regione È un momento storico, tante persone devono tornare al voto anche per impedire questa per dare un segnale diverso e per partire dall'Abruzzo per dare con forza uno schiaffo a questa proposta di legge che impoverisce la nostra regione